dunque siamo in diretta quindi possiamo cominciare anche oggi la nostra trasmissione possiamo partire ben ritrovati come sempre alla visione di canale 2 tv vi ricordo lcn 90 che è il numerino che dovete piggiare per vederci e passo subito a presentarvi l'ospite di oggi come sapete stiamo parlando ormai in quasi tutte le trasmissioni parliamo di elezioni comunali perché uno dei temi più importanti che riguardano la nostra città perché riguarda essenzialmente il nostro futuro di qui a cinque anni speriamo cinque dieci anni quindi è importante discutere di questi argomenti però c'è un dato che fino ad oggi c'è poca presenza di candidati qui alla tv all'unica tv locale di altamura per cui noi per rispettare la par condicio cosa facciamo facciamo interviste a coloro i quali non sono candidati o quelli che erano candidati ma che poi non si sono più candidati è il caso è il caso di peppino in campo che buonasera buonasera a tutti ben ritrovati come sta peppino tutto bene bene benissimo molto bene e peppino in campo è stato forse il primo candidato sindaco sì effettivamente sì perché ci stavano delle condizioni che si cercava di portare in porto quello che magari si era creato con la mente sì e quindi poi c'erano già i manifesti in giro per la città sì 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 noi ce ne siamo accorti dei manifesti certo certo poi quando sono venute meno queste premesse fermiamoci un attimo fermiamoci allora c'era un manifesto gigante uno dei tanti in giro dove c'era scritto scendo in campo ecco che cosa voleva rappresentare voleva rappresentare un richiamo per gli elettori ma soprattutto per chi aveva interesse a creare quelle liste civiche che mi dovevano venire a sopportare è questo che è venuto a mancare purtroppo perché quando sono poi usciti nuovi le nuove facce coalizioni non ho avuto non so se è una questione di credibilità o una questione di prodotto tutto sommato allora ci sta dicendo che praticamente quando sono venuti fuori le nuove coalizioni le altre coalizioni o che si dovevano coalizzare sono venuti meno i candidati che dovevano formare questa lista io stavo facendo una lista diciamo di di supporto aspettando le liste di un certo contenimento perché non è che diciamo avevo quella non conoscevo bene non c'è un'esperienza voglio dire come politico non come politico in sé per sé come politica sì come come politico come preparazione delle liste esatto ma tutti questi non ci capisco ci capisco poco eppure io dallo stesso non sono non sono un leone in quella in quelle circostanze io sono potrei essere bravo nel formare nel creare nel dell'idea insomma nell'idea delle idee e da 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 prestarmi a a diciamo alla cittadinanza allora spieghiamo a quanti ci fossero sintonizzati in questo momento allora peppino in campo era fino a qualche giorno fa uno dei candidati a sindaco della città oggi non lo è più quindi anche perché lo stiamo intervistare lo possiamo intervistare perché stiamo rispettando la par condicio non parleremo di nessuno dei candidati assolutamente non ho nessun interesse stiamo spiegando qual è la sua storia di candidato che prima si candida e poi deve rispettare poi ho pensato dico vado avanti con una quella lista che io avevo 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 inteso nella mia nelle mie idee in quella di unione popolare con il pallone che era nata così e non volevo toglierlo perché era un un segno di richiamo era un segno di richiamo anche perché ma gli amici la stimolavano a fare la cosa no certo sì gli amici l'hanno stimola ovviamente ad altamura ci sono amici amici sono gli amici nemici gli amici amici ci sono quelli in neutrale non faccio non vorrei manco fare confusione nel dire che un amico è un conoscente o che ne so comunque sono un libero pensatore e quindi non non voglio la mia la mia politica non è quella del di di stare a vedere cosa fa quello cosa fa quell'altro quello dice una cosa sbagliata quello dice esatto quello ha rubato quello rubava quello faceva a me non interessa tutto questo a me interessa una politica molto più come dire con con stile quella politica creativa quella politica che vuol fare non quella politica che chi ha fatto l'ha fatto sbagliato chi l'ha fatto sbagliato o l'ha fatto bene ben fatto il problema è un altro il pettegolezzo se lo mancia la pochezza delle persone le persone che hanno un grande cervello non vanno dietro il pettegolezzo si fermano e riflettano no no io dicevo questo per dire che ci sono degli amici che l'avrebbero votata volentieri e certo sì diciamo e io e io a questa nessuno la prossima elezione mi candiderò proprio per questo motivo perché io a questo punto cosa avevo deciso nel momento che il candidato sindaco si è messa male la cosa mi andava a bruciare non volevo farlo anche se avrei avrei preso diversi voti non lo metto in dubbio ma il problema non era questo è che non potevo realizzare nulla allora no 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 scusami se io andavo avanti e mettiamo il caso che al primo turno si vinceva io ero fuori dai giochi se le mie liste non superavano il quorum non andavo manco il consiglio comunale io mi sono fatto anche questa piccola idea è molto importante allora a questo punto io facevo la lista mi candidavo con con una coalizione ma dovevo sottostare non potevo impormi per impormi avevo bisogno di una certa leadership c'è voti che la gente mi doveva sopportare e quindi praticamente a un certo punto è venuta l'idea di avvicinarsi a una coalizione a una coalizione a una coalizione viceversa o l'hanno chiamata insomma esatto sì praticamente poi un po perché io penso che la matematica purtroppo non la fanno solo le donne ma fanno anche gli uomini e quindi sono stato oggetto di gente che ha iniziato a farsi conti e io potevo essere di scomodo ma io ritengo che queste persone non debbano stare nelle coalizioni sono distruttive perché poteva rubare dei voti e no ma il posto la consigliera qualcun altro probabilmente è quello che penso io cioè basta guardarsi in giro andare in giro per per le strade e vedere armando giuseppe in campo che cosa rappresenta per una persona che gli vuole bene e anche cosa rappresenta per una persona che non gliene frega niente di giuseppe in campo anche perché lei dobbiamo dirlo ha una storia è certo storia che dobbiamo possiamo ricordare un attimo tra l'altro è stato anche uno degli artefici della tv locale esatto ma sono stato il number one un pioniere un number one arturo della tv altamurana di una tv che all'epoca c'era poi ha chiuso come sappiamo ma era la quinta in puglia era una tv molto forte forse la ventesima in italia proiettavamo il film e dietro c'era dietro il pannello bianco c'era la telecamera che ricordo ricordo si invertiva nell'immagine perché tu sai benissimo che quando un proiettore proietta l'immagine riflessa dall'altra parte e diciamo viene viene ribaltata l'immagine noi avevamo quella telecamera che riportava di nuovo l'immagine in originale in originale erano altri tempi esatto poi si è dedicato al calcio ecco perché il calcio è sempre la mia passione solo che quando mi allenavo durante tutta la settimana poi la domenica non rispondevo mai alle convocazioni perché ritenevo opportuno più andarmi a fare una ripresa e allora non riuscivo a guadagnare parecchio ricordo che facevo degli sponsor da 200 mila lire negli anni 70 quindi 200 mila lire negli anni 70 erano proprio tanti 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 quindi praticamente il calcio poi diventata la sua passione e poi pian piano 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 fino poi a all'ingresso con la famosa rete capri che tu sai dove poi io sono stato diciamo un pilastro di quella rete capri perché curavo curavo tutta la triatica compreso calabria sicilia io volevo parlare più diciamo dell'aspetto sportivo cioè del fatto che il suo impegno nello sport ha rappresentato per la città una cosa importante sì ad altamura ebbe l'inizio che prese la squadra un mio carissimo amico Michele Maggi quindi che salutiamo sicuramente certo ci starà guardando sicuramente e quindi la cosa mi affascina a me del calcio e quel calcio olandese il tikitaka che chiamano adesso ma non proprio il tikitaka noi parliamo dell'origine del tikitaka la zona totale e la zona totale che io ancora tuttora applico se alleno ovviamente se mi fanno allenare e purtroppo pochi la capiscono pochi sanno cosa significa e pochi sanno le qualità che una persona debba avere e l'intelligenza soprattutto che una persona deve avere per portare avanti quel tipo di qualità perché ci prego volevo capire allora quindi no per ricapitolare quindi questo suo interesse per lo sport questa sua passione ormai diciamo è riconosciuta da tutti l'avrebbe portata anche in zona politica no certo nella politica nell'amministrazione comunale sì esatto perché l'abbiamo detto pure insomma lo diciamo spesso che la politica non ha molta attenzione per lo sport ma non solo per lo sport attenzione tanto per dirne uno arturo io se avevo detto la chiusura del cagnazzi non perché sono una persona che non vede lo sport sono una persona che vede fin troppo bene lo sport perché la chiusura del cagnazzi avevo detto voglio fare tre campi da calcio e strutture per il resto dello sport compreso l'atletica cioè praticamente fare un campo per la prima squadra un campo per tutte le seconde squadre un campo per tutto tutto quello tutto quello che è la il discorso scolastico e quindi avere un campo cagnazzi inefficiente in ambiente piccolo brutto ma è da una vita che io ci giocavo nel campo cagnazzi certo immagini quanto bene io voglio a quel campo ma quanto male mi ha fatto quel campo io giocavo in porta e quindi sa quante quante rosette mi sono fatto quindi praticamente a parte il campo di bocce che diciamo ad altamura stanno tentando di fare ancora no perché ce n'è uno forse ne vogliamo fare un altro è vergognoso è una cosa incredibile giocare a bocce arturo è vergognoso io ho sentito di nuovo in giro le promesse elettorale è una vergogna non facciamo riferimenti a candidati no 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 ma io non parlo non parlo di questi o quelli io parlo in generale da quando io seguo la politica io ricordo quindi parliamo anche degli anni passati mi ricordo che andavo con la telecamera cai nel 1907 lontano 76 ero un ragazzo che andavo a riprendere le fogne fuori uscite arrivavi in consiglio comunale a riprendere il consiglio comunale e ti sentivi che iniziavano i tuoni il compromesso storico oddio ma noi abbiamo i nostri problemi il compromesso storico non era un loro problema e va bene non è cambiato molto non è cambiato affatto non è cambiato ma allora c'era signorilità nella politica adesso non c'è neanche quella questa è la mia preoccupazione perché adesso chi vince mentre allora si rispettava anche chi arrivava secondo adesso chi vince arrivederci grazie ho vinto funziona perché lei dice non ci sono i programmi non ci sono i programmi allora la politica aggregazione la politica inventiva la politica la politica è tanto questi sono solamente degli affaristi beh vabbè speriamo che insomma questa cosa cambi con le prossime azioni ma speriamo di sì speriamo di sì ma speriamo tutto speriamo che ci auguriamo che chi andrà ad amministrare questa città abbia intenzione di dare un passo diverso alle cose a cominciare anche dallo sport dicevamo che è stato abbandonato in questa città esatto è stato abbandonato e io ricordo quando noi abbiamo vinto un campionato di serie d dove io li ho fatto parte e curavo in prima persona tutte le fasi tecniche e anche logistiche ricordo io anzi allenavo anche la juniores e ti posso dire che non è cambiato assolutamente niente ecco e quindi se lei fosse andato ad amministrare se lei avesse vinto la competizione elettorale per esempio del campo sportivo cagnazzi cosa ne avrei avrei già fatto fuori e quindi cosa avrebbe fatto allora avrei creato area parcheggio avrei fatto sparire tutte le macchine dal centro dal centro avrei portato il turismo ad avere una giusta quindi quel campo via ne avrei fatto un altro da un'altra parte tre tre non uno perché ne servono tre serve uno che gli devi dare per un eventuale prima squadra perché adesso noi abbiamo una squadra in serie d perché magari la dirigenza ha quella mentalità e quella diciamo capacità di quelle che hanno quelle capacità e noi non possiamo andare a noi non vado a dire a loro che vogli non siete competenti non siete competenti è un problema assolutamente se la vedono loro non è bene che ci siano voglio dire è bene che ci siano voglio dire per quando concerne il sottoscritto se non se non mi chiamano è un problema loro non è un problema mio io l'anno prossimo cercherò di allenare cercherò cercherò va bene allora ora non oggi spongo perché entriamo in un campo molto ma molto delicato ecco ma per quello che lei ha potuto vedere in questo meccanismo dove si è trovato a candidarsi che voleva candidarsi sì ha visto cose che non le sono piaciute cose che ha ritenuto diciamo dalle quali si è voluto allontanare il solito problema di chi io devo dare a quello io devo dare a quell'altro quello mi ha fatto un piacere quello mi farà un piacere quello ha detto che forse c'è il posticino per me le solite barzellette e inutile che vorremmo fare retorica io dico una cosa io dico una cosa io per esempio avevo detto nella mia pazzia faccio un carnevale estivo lo dico per pazzia se ci riesco come provocazione come provocazione cioè a me stesso prendo degli amici imprenditori che vogliono investire qualcosina eccetera eccetera si fa un'associazione e si investe un carne da sfilata faccio una sfilata faccio venire un cantante di un grido di grido eccetera eccetera e faccio una serata o due serate o tre serate a bundandum a bundarrorum facciamo queste serate e ci divertiamo un po' con una sfilata in bichini con è una pazzia posso essere pazzo? posso delirare? ognuno può c'è ma il problema è che è un altro che di pazzi ce ne sono tanti ci sono i pazzi buoni noi la conserviamo la conserviamo la salvaguardiamo la salvaguardiamo o la mettiamo in giusto salvaguardiamo come la stessa cosa è nato il federicus né più né meno solamente che quello esiste e questo non è mai stato prodotto da nessuno perché nessuno ha mai pensato di fare un carnevale d'estate che sarebbe la cosa più bella da fare perché fare un carnevale quando fa freddo non ti puoi vestire come magari come vorresti ecco perché io ho avuto quell'idea ad oltremmo anche adesso che io lo sto dicendo ci saranno molti che cercheranno di prendere spunto di quello che io sto dicendo lo immagino già come hanno fatto su tutte le altre cose che magari io quando ho fatto ho schioccato le ditta per un qualcosa e ne è uscito fuori sempre chi mi veniva dietro a consagrare le mie parole sono stati copiati allora per chiudere vogliamo dare un consiglio a chi andrà ad amministrare questa città al prossimo sindaco, ai prossimi assessori insomma vogliamo dire qualcosa che possa servire? allora ad altamura è necessariamente non quello che ho sentito perché le favole le fanno solamente le maghe parliamo con la bacchetta magica e dicono apri il cielo e il cielo non si apre non è possibile che devono dire che devono fare la città dello sport su che cosa, su che base è un'offesa all'intelligenza dei altamurani non è possibile io ho detto facciamo fuori il Cagnazzi prendiamo pure i soldi dal Cagnazzi se lo facciamo fuori e facciamo pubblico e privato andiamo a investire e possiamo creare altre cose quindi parcheggio a pagamento mi pare di capire metà e metà metà e metà devi farlo per forza nel momento che uno dice la città dello sport devi fare una piccola città dello sport allora ci devi mettere il disco e lo stadio devi fare tutti gli altri sport cioè la città dello sport in Italia sta solo a una parte a Roma per il momento questa è solo la città e la fece il nostro antenato il nostro baffone che chiamano non voglio dire chi per il momento questa è solo la città del cemento dello sport proprio mi sembra che non ci siamo ma non ci credo non ci credo non ci credo e non ci credo allora se vuoi costruire i campi da calcio e altro devi fare fuori il Cagnazzi molti dicono che il Cagnazzi non si può fare fuori tenetemi il Cagnazzi lei dice abbiamo una struttura che non serve e tenetelo e siamo sempre appresso a questa struttura e come si chiamano queste persone è compromessa come si chiamano queste persone quando lo sport si può fare in altre strutture un po' fuori la città per esempio è stato fatto quella specie di non lo so come chiamarlo in via Materi in via Treviso per il turismo sì il pull turistico il pull turistico quello che sarebbe il pull turistico il pull turistico come info poi non viene fatto in quel mondo ma guardate un po' come si spregano i soldi il pull turistico viene fatto con delle associazioni si parte con delle associazioni si parte di un quorum e delle destinazioni la parte dei turisti dove vogliono andare a visitare si vede dove bisogna farli alloggiare dopodiché si fanno venire i turisti si mettono si portano negli alloggi si dà quello che i turisti hanno bisogno bisogna portarli nei sassi di Matera bisogna portarli a vedere la nostra gravina di Puglia che ha delle cose bellissime anche da mostrare la stessa Altamura e dintorni anche se chi si vuole andare a fare un giorno al mare allora tu otterrai il turismo ad Altamura altrimenti sono dei ciucci e presuntuosi questi signori è chiaro il discorso Arturo va bene e questo non è pazzia siamo in conclusione il problema è il mare che è ad Altamura no il mare li metti nel pulmino e li porti il problema è il mare il mare è un po' difficile diciamo no va bene allora ha fatto bene va bene a chiarire questa cosa va bene allora grazie a grazie a te Arturo è stato un piacere per essere qui con noi abbiamo detto in apertura che siccome è difficile sapere quello che vogliono fare i candidati voglio raccomandare Arturo la città di Altamura stiamo intervistando quelli che non sono candidati sindaci allora voglio voglio raccomandarmi sì con questi diciamo candidati sindaci che tutte quelle persone scorbutiche che hanno nelle coalizioni dategli un calcio da dietro spediteli fuori meglio ora e non domani vabbè ormai le liste sono presentate no non parlo di gente candidata ah ho capito anche perché si stanno si stanno stanno cercando di eh farsi l'orticello allora si prendono quei 4 5 consiglieri e ti gestiscono il sindaco mi sono spiegato Arturo quindi lei dice c'è una manipolazione c'è una manipolazione fortissima in tutti gli in non lo so quanti sono non lo possiamo dire quanti sono non lo possiamo dire per la par condition non lo possiamo dire e quindi è giusto che sia così è giusto che niente e allora concludiamo la trasmissione vorrei salutare i suoi quelli che dovevano essere i suoi beh sì i miei sono veramente rammaricato ma voglio bene a tutta quella gente che mi mi è stata vicina che mi voleva votare e avrete avrete modo di votarmi in altre circostanze spero alle prossime elezioni nelle prossime elezioni non sarà detto che siano le amministrative certo anche in parlamento può succedere no no va bene non metto non metto vetti non metto io mi vedrò con alcuni alcuni personaggi addirittura vorrei vorrei vedere un attimino se le mie idee innanzitutto confluiscono in certi determinati concetti poi magari vedere cosa ci riuscirebbe a fare tutto qua va bene va bene allora grazie a Giuseppe in campo detto anche Peppino insomma per gli amici per chi lo conosce grazie per essere stato ancora con noi ritornerà per parlare spero spero al più presto ritornerà presto a parlare delle cose che non funzionano in questa città non ci sono problemi quando vuole tu mi chiami mi chiami io sarò a disposizione tua quindi ci conosciamo da ormai è una vita da una vita siamo amici da tantissimo tempo quindi non c'è nessun tipo di problema va bene il mio è stato sempre abbiamo capito è stata sempre una vita nella televisione sono ormai 35 mi sono fermato là perché già da qualche anno non faccio più televisione comunque va bene che devo dire più grazie Peppino grazie a voi grazie a voi a tutti grazie per averci seguito io lascio la linea Emanuele Giordano che ci deve dare diciamo conto di quelle che sono le cose che non funzionano in questa città a te Wisham Blon e Maccheron ci sentiamo domani stessa ora arrivederci grazie a tutti grazie a tutti